Bene, fine partita con Princiotta. Una partita facile, tutto sommato. No, una partita facile no, siamo stati bravi noi a metterla sulla giusta strada. Loro sono una buona squadra, sono formati da dei ragazzini che si allenano tutti i giorni e i risultati si aiutano, sono dei buoni ragazzini e sicuramente usciranno. Quindi siamo stati più che altro bravi noi a metterla sulla giusta strada. Ora il campionato si ferma una settimana, poi si riprende. Sostanzialmente l'Edoiani può ambire ad arrivare ai play-off? Noi sicuramente ci lotteremo, daremo il massimo come abbiamo sempre fatto e sicuramente proveremo ad arrivare a quel traguardo. Ora in questa settimana di pausa la sfrutteremo per migliorare, per allenarci per arrivare alla prossima partita nelle giuste condizioni. Ok, grazie. 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 Grazie.